simona ventura torna all'isola dei famosi la conduttrice mai più non guardo al passato la conduttrice risponde all'appello di chi la vorrebbe di nuovo al timone del reality dopo le critiche alla gestione marcuzzi in un'annata dominata da polemiche canna gate il canna gate lo strascico di discussioni che stanno travolgendo un'isola dei famosi 2018 scarna di emozioni ma densa di polemiche hanno scatenato parte del pubblico contro la produzione e la conduttrice alessia marcuzzi tanto che da più parti si sta invocando da giorni il ritorno di simona ventura al timone della trasmissione non c'è da stupirsi la presentatrice piemontese resta forse la personalità più amata tra quelle che hanno guidato il reality lei ha risposto all'appello in una recente intervista su nuovo tv ma la replica non è esattamente quello che i suoi fan vogliono sentirsi dire simona ventura otto edizioni dell'isola da conduttrice una da concorrente non sono ancora noti i progetti cui simona ha fatto cenno dopo le due poco fortunate edizioni di selfie le cose cambiano nel 2016 meno 17 non è dato sapere se tornerà con un nuovo programma su mediaset la recente partecipazione come ospite a sanremo yang ha fatto pensare che super simo addirittura essere corteggiata dalla rai l'avventura ha condotto otto edizioni dell'isola dei famosi dal 2003 al 2011 ai tempi in cui andava in onda su rai 2 nel 2016 è tornata da concorrente ed è stata eliminata definitivamente nella sesta settimana niente reality al momento per il figlio nicolò l'avventura inoltre parlato del figlio primo genito avuto da stefano bettarini nicolò il ragazzo non ancora ventenne era in lizza per partecipare sia al grande fratello vip che a questa edizione dell'isola dei famosi in entrambi i casi a bloccare nicolò sarebbe stata proprio l'opposizione di simona e bettarini pienamente d'accordo al di là dei passati screzia tutelare il figlio ancora troppo giovane per essere inghiottito dal mondo della televisione la conduttrice ha chiarito che al momento il ragazzo peraltro già noto alle cronache di gossip per le sue conquiste amorose si occupa di calcio e non sarebbe ancora pronto per il piccolo schermo nessuna crisi con gerò infine la conduttrice ha negato definitivamente l'esistenza di problemi col compagno gian e gerola mo carraro detto gerò non è assolutamente vero ogni tanto viene fuori questa notizia non so perché le nozze possono aspettare è come se fossimo sposati a 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